ciao sono claudia del blog gourmet project ho cucinato con la supervisione dello chef daniele sai il pai di pomodorini con guanciale guarda quest'olio che colore gli abbia fantastico uno spadello mi stai usando una riserva di guanciale personale grazie assaggiamo si votate per me ciao sono emanuele lo iacono di food trip and more ho avuto il piacere di cucinare insieme alla chef maria cicorella il mio carpaccio di fighi con spiedino di gamberi e calamari forse ho significato il sale e un po di pepe non ce lo metti ha ragione che è arrivata la fase più delicata chef se volete far vincere la puglia i prodotti pugliesi votati per me